Venerdì 19 maggio sarà una giornata di festa per la città di Chieti che si è presto ad accogliere la carovana rosa del 102esimo Giro d'Italia che transiterà nel capoluogo tiatino nelle prime ore del pomeriggio. Per evitare disagi alla viabilità il sindaco Umberto Di Primio ha decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine, grado e degli esili nido per l'intera giornata di venerdì con un'apposita ordinanza. La carovana rosa che transiterà a Chieti nell'ambito della settima tappa vasto l'Aquila del Giro d'Italia dovrebbe attraversare il territorio tiatino tra le 14 e 25 e le 14 e 50 ma per questioni organizzative le strade da percorrere dovranno essere chiuse già due ore prima del sopraggiungere della corsa ciclistica. Sempre venerdì 19 maggio la città sarà interessata dal passaggio della sesta tappa Chieti l'Aquila del Giro e manifestazione ciclistica per bici elettriche e dunque per evitare di tenere prigionieri alunni docenti e personale scolastico negli istituti cittadini il sindaco ha disposto la chiusura degli stessi e la sospensione del mercato cittadino del venerdì. Mario Colantonio assessore alla viabilità del comune di Chieti. Il giro si innesterà da via Masci sul via Ettorei Anni che sarebbe la salita che porta nell'antica chiesa di Madonna del Freddo transita di fronte alla struttura del carcere quindi cimitero di Sant'Anna, piazza Sant'Anna svolta su via Nicolino che è una traversa prima del Sacro Cuore per arrivare aria Pietra Grossa dopodiché c'è via Federico Salomone, via Silvino Livieri, via Signo Aereo. Si scende sotto via Madonna degli Angeli e si percorre tutta la colonnetta fino ad arrivare di fronte alla stazione per poi girare su via Labruzzo e tutta l'ex Tiburtina fino al confine cittadino a località Brecciarola. Noi abbiamo un'ulteriore attività sportiva che la partenza del giro è questa corsa parte alle 10.05 da piazza San Giustino quindi si innesterà subito su via a Signo Aereo e seguirà il percorso colonnetta eccetera per arrivare all'arrivo all'Aquila. Raffaele Di Felice assessore ai lavori pubblici per il comune di Chieti. Riuscirete a sistemare questo rettangolo di asfalto in via Aereo. Si ce la faremo, era previsto la sistemazione con l'asfalto lunedì mattina, quindi ieri mattina, causa la pioggia, abbiamo rinviato a giovedì piccole criticità sulla discesa della colonnetta, qualche piccola toppa da mettere ma là la faremo concordamente con gli organizzatori della tappa e due New Jersey da posizionare a un incrocio. Il giro d'Italia ce la farà passare, sarà tutto a posto.